Riaperta da poche settimane, la piscina di Mezzana è nuovamente inagibile per un problema ai filtri dell'acqua. Questa mattina l'amministrazione comunale ha deciso di chiuderla, in attesa del sopralluogo del tecnico che era comunque già fissato da tempo come controllo dopo la fine dei lavori di manutenzione, che hanno riguardato anche l'impianto di filtraggio delle acque. Ci siamo mossi subito per evitare ulteriori disagi a chi utilizza la piscina, spiega l'assessore allo sport Luca Vannucci. È inammissibile che ci siano ancora problemi ai filtri. Se è una fornitura difettosa ci rifaremo sul produttore. Intanto però dobbiamo cercare di sveltire i tempi per la riapertura dell'impianto. Da qualche giorno i gestori avevano notato qualche problema ai filtri, ma la situazione era sotto controllo. Non credo sia un problema di manutenzione dell'impianto, conclude Vannucci, ma faremo tutte le verifiche del caso. La piscina comunque, secondo quanto pubblicato sul sito del comune, resta chiusa fino a data da destinarsi. Attualmente sono aperti gli impianti di Iolo, quello di San Paolo e della Gescal, mentre in via Marradi sono iniziati i lavori per ristrutturare la tribuna e gli spogliatoi.